Anche nell'ultima relazione della direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 2019 presentata nei giorni scorsi in Parlamento, compare ancora una volta il nome di Cremona. Nel marzo dell'anno scorso, spiega il documento, nella nostra provincia in quella di Mantova, Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia, è stato eseguito la Guardia di Finanza di Crotone un provvedimento di confisca di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 40 milioni di euro nei confronti di membri della famiglia Grande Aracri, nome tristemente noto nel mondo della criminalità organizzata per un'attività quanto mai variegata dallo spaccio all'estorsione, dalla frode a infiltrazioni negli appalti. La confisca è venuta in esecuzione di una sentenza di condanne messa dalla Corte d'Appello di Bologna nell'ambito del noto processo Emilia. Inflessioni e reati ambientali, anche se non sono comunque mancati anche a Cremona, casi di incendi presso depositi, di stoccaggio e rifiuti.